buongiorno amici faccio un piccolo video siamo arrivati da poco qua saranno le 8 meno 10 portarvi queste immagini dall'albergo facciamo un attimo una passeggiata vediamo dove porta eccoci qua buongiorno ah vuoi parlare dai un piccolo video ecco qua già posizionato manca la scritta europe sopra e odessa sotto che la stia stefano si sta dedicando facciamo una panoramica in modo da dare l'impressione della sala già pronta con tanto calore che vi aspetta eccola qua bene amici venite in fretta perché qua c'è qualcosa di straordinario grazie 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 grazie